Anche nel calcio sarà sfida tra Lecce e Matera, ma sarà Corsa a due. Il calendario di Coppa però le ha messe di fronte e una delle due abbandonerà il palcoscenico che meno interessa. I giallorossi inseguono la qualificazione al secondo turno e lo faranno davanti al pubblico del Via del Mare, dove in campionato hanno sempre vinto. Per la sfida di Coppa il tecnico giallorosso Lerde effettuerà un ampio turnover. In vista della sfida di campionato contro il Cosenza, in programma domenica alle 18 al Via del Mare, l'allenatore piemontese non ha convocato il portiere Caglioni, i difensori Abruzzese e Martinez, il centrocampista Mannini, oltre agli infortunati Papini, Salvi e Bogliasino, gli attaccanti Carrozza e Moscardelli. Attenzione al campionato dunque, ma senza trascurare la Coppa che rappresenta un test per far acquisire minutaggio ai calciatori meno impiegati finora e rodare la squadra sui sincronismi tattici che in questo momento vanno per la maggiore. Si rivedrà Fabrizio Miccoli. L'attaccante giallorosso ha bisogno dell'intensità di una partita vera dopo diverse giornate di assenza. Il capitano sarà quasi certamente provato nel 4-3-3 che ultimamente ha dato i risultati migliori. Miccoli era stato già provato in allenamento nel 4-3-3 come attaccante nella zona di centro-sinistra. Non è escluso comunque l'utilizzo di altri moduli. Il tecnico giallorosso ha annunciato che Diniz partirà dalla panchina. Ci sarà spazio anche per D'Ambrosio che non gioca dal 9 marzo scorso trasferta a Viareggio. Oltre sette mesi lontano dai campi, finalmente la possibilità di tornare a respirare il clima di una partita vera. Il Lecce dovrebbe schierarsi con Petrachi in porta, Donida, D'Ambrosio, Carini e Rullo in difesa, Lepore, Gomez e Sacilotto al centro-campo, Rosafio, Della Rocca e Miccoli in attacco. Tra le due squadre e il secondo confronto stagionale dopo lo 0-0 di Matera in campionato, arbitrerà l'incontro Luciano della sezione di La Messia Terme. Per la partita di Coppa Italia i tifosi potranno prendere posto solo nei settori di Curva Nord e Tribuna Centrale, come stabilito dall'Unione Sportiva Lecce. Fischio d'inizio alle 14.30.